Siamo con il tifoso e collaboratore di Prima Pagine Online, anche per te la domanda è semplice, qual è il tuo Ascoli? Il mio Ascoli è quello della Serie A, poi ho iniziato a seguire più assiduamente l'Ascoli a partire dalla stagione di Serie A 2005-2006, quella in cui c'era il bomber Marco Ferrante, poi c'era Nando Coppola come portiere, Guana Parola, poi in cui aveva anche esordito Quagliarella, che è l'attuale capocannoniere della Serie A. Mi sarebbe anche piaciuto rivedere Ferrante in campo in questa occasione, però sarà per un prossimo evento relativo all'Ascoli Calcio. Comunque io ho iniziato a seguire l'Ascoli andando allo stadio con la Serie A 2005-2006, ma in realtà lo seguivo da qualche anno, quando si trovava in Serie B, soprattutto quando c'è stata la promozione in Serie A con l'allenatore Marco Giampaolo e il pubblico recrimina. Posso citare anche la coppia dei gemelli del gol Bucchi e Colacone, che fecero diversi gol e contribuirono alla promozione in Serie A. Invece relativamente agli ultimi anni ci sono stati alti e bassi, ma si può ricordare la clamorosa vittoria per 3-0 contro il Pescara di Zeman al Del Duca. Poi in questa stagione il 3-1 contro lo Spezia con il gol numero 100 in Serie B per Ardemagni. Il mio Ascoli, per concludere, è molta passione, molto attaccamento alla maglia e quindi è un sistema di passione, amore per i colori bianconeri e anche l'aspirazione ad obiettivi ambiziosi che possano riportare al più presto l'ascolicalcio dove merita di essere, cioè sui palcoscenici più importanti del calcio italiano.